Ciao a tutti ragazzi, sono Carly e questo ovviamente è Cimmia, che è arrabbiata perché ha perso un calzino Guardate, ne ha uno solo, infatti è molto disappointed Benvenuti in questo nuovissimo video, oggi torniamo con il nostro appuntamento settimanale In cui leggiamo le bagianate dei bambini Mi sto organizzando anche per fare la seconda parte dove vi leggo i miei diari, quindi mi raccomando state sintonizzati La pagina è sempre la stessa, i diari dei bambini che ci offre delle perle assurde Il primo post è quello di Camilla che scrive Non so come sarà il mio futuro, oggi sono impaziente, non mi sento più la stessa Ho un po' di pensieri che mi passano per la testa Il bello è che i problemi a quei tempi ci sembravano così complicati Beh, erano solo delle tupidaggini Il mio problema più grande e elementare era che mi separassero con il banco e dalla mia migliore amica Laura di 7 anni scrive Io sono cattiva, con un bellissimo sole raggiante sotto che esplode di felicità E scrivono quel sole sorridente palesemente passivo, aggressivo Tuglia di 9 anni scrive Sono in ansia Con tutti i cuoricini, le palline, le stelline Ha fatto un bellissimo disegno di lei che innanzi Tuglia spirito guida Damiano che non dice la sua età ma è palesemente molto piccolo A giudicare dalla grafia scrive Come voglio la mia ragazza 1. La vuole rock and call 2. La vuole bella E certo, e chi è che la vuole brutta? Scusa 3. Castana 4. Di dove deve avere violetta o viola o vilù Nomi comunissimi che puoi trovare dappertutto E nei punti più importanti scrive 5. La voglio sexy 6. Che non mi stia sempre addosso Giustamente perché se poi vuoi purla ragazza Non puoi avere un'appiccicosa che ti stia sempre addosso per tutto il giorno 7. La voglio di 22 anni Vuole più grande E 8. La vuole sexy Il punto 9 ve lo copro Ottimo lavoro Damiano È così che si cerca la ragazza E a proposito di cercare la ragazza Vediamo un altro bambino in attesa di trovare la sua principessa Infatti abbiamo Filippo di 7 anni che scrive Cercasi ragazza Sono un gentiluomo carino Voglio bene le ragazze Se incontro una ragazza più bella Non lascio la mia fidanzata Perché non la voglio rendere triste Se la mia fidanzata entra in un negozio E vede un anello che costa 25 euro Io glielo compro Che carino Filippo Ma che amore Ma scusa ma a 7 anni ti immagini un bambino Che scrive una cosa del genere Che carino E giustamente scrivono Se vuole un anello che costa solo 25 euro Compraglielo subito Non farti scappare un'occasione del genere Ed è vero mannaggia 25 euro per un anello Non è tutta questa gran roba Però per Filippo sì Erano proprio milioni Così crescono i gentiluomini E i bravi ragazzi Qua abbiamo Claude Che scrive Guardate un pezzo di tenda Che ho strappato E c'è un pezzo di tenda Un quadrato di tenda Che ha incollato sul suo diario Ecco fatto Claude ora vive in Messico È felice ma ricercata dalla madre Per tendicidio Chissà se effettivamente Claude dopo così tanto tempo È ancora viva Oppure se sua madre Gli ha staccato la testa Chi lo sa Perché Insomma Strappare un pezzo di tenda Per incollarlo nel diario Fabiola di 10 anni Che è arrivata proprio agli estremi Scrive Vado a finire questo giorno da schifo O per meglio dire Con parole precise di me Questo è lo spirito giusto È giusto essere precisi Ovviamente Chiamiamo le cose con il loro nome Blair Credo che si dica così Di 6 anni Scrive Oggi parto E vado in Calabria Terra di speranze E di novità Famosissima la Calabria Come terra di speranze E di novità Senza offese ai Calabresi Ovviamente Marilu di 10 anni Scrive Certe volte mi fermo Penso La vita non è un gioco Come quelli che facciamo io E Josephine Non si può fermare Forse noi non ci accorgiamo È un miracolo Che io possa scrivere Dobbiamo cercare Di essere vicini Non si può sapere Se domani Potremo svegliarci Miseria Marilu 10 anni Si è svegliata proprio Col piede storto Giustamente Marilu Poi nei commenti Scrive Ciao Volevo tranquillizzarvi Sono ancora viva Miseria Marilu Pensavo che fossi morta Io invece adesso Vorrei un attimo Fermarmi Ed apprezzare insieme a voi Questo disegno Di Antonella Dove raffigura La Madonna Bellissimo A quanto pare La Madonna Ha 20 braccia Sembra un virus Adoro i disegni Dei bambini Sono troppo belli Qua invece Beatrice Beatrice di 8 anni Scrive una letterina Per Gesù E scrive Gesù Secondo te Io sono brutta Sì o no Fai una X Chissà Gesù Cosa le ha risposto Abbiamo Arianna Di 8 anni Che scrive 8 anni Auguri E poi sotto fa Un bellissimo disegno Con torte Festoni E poi scrive Non è il mio compleanno Però Ma scusa Arianna Ma quindi Che senso ha Un buon non compleanno A te Scrivono qui Nei commenti Arianna Vecchia Volpe Anche stavolta Ce l'hai proprio fatta I miei Numero 1 Rispogli a queste domande Senza pensarci troppo E scoprirai I tuoi pensieri Profondi Colore Il Fupsia Numero 10 Spettacolo televisivo Paperissima Con una S Paperissima Presentatore televisivo Perlusconi Anzi Perlusconi Con la P Animale Ucceloto Squadro atleta Italia Io adesso sono curiosa Di vedere Che tipo di animale È l'ucceloto Ah Forse voleva dire L'occelot È l'occelot È questo Qualche sembra Tipo Un gatto Roma Domenica 8 maggio Giovanni scrive La domenica È un giorno di riposo Ma non per me Che devo Perfezionare L'ortografia Distinti saluti Giovanni Sei proprio Un gentil uomo Mamma mia Tutti alla domenica Si riposano Tranne l'unico Essere sul pianeta Giovanni Che ha molto da fare Deve perfezionare La sua Ortografia E poi Distinti saluti Sotto vispenza Chi è questo uomo Misterioso Del letto Chi sarebbe Quest'alieno Sdraiato Questa persona Si chiama Koshi Koshi È la coscienza Di questa persona Che sta scrivendo Che non c'è il nome Lui è Koshi Quando faccio La cattiva Mi dispiace Piango Perché Koshi Si sporca E questo è Koshi Sporco È la sua coscienza Sporca Chissà perché Questa cosa Mi ha fatto ricordare Di quando A sette anni Ho riempito Un guanto Di farina E ci ho disegnato Sopr una faccina Ed ero convinta Che fosse il mio amico Per sempre Che mi durasse Per tutta la vita Un guanto Un guanto pieno Un guanto pieno Di farina I bambini Sono proprio Casuali Sono Sono esseri Random Sabato 11 febbraio Abbiamo Beatrice Di sette anni Che scrive Egli è venuta A casa mia Non posso Mai essere felice Odio tutti Anche me Cioè Beatrice Voleva solo Essere lasciati in pace Non voleva ospiti Non voleva la sua amica Odia tutti Voleva stare Per i fatti suoi Chi è che le ha portato Eli a casa Ma scusa Venerdì La mia camera È un po' Inquietante E poi C'è Lorenzo A letto Con dei poster O persone Che lo guardano Dalla finestra E poi qua c'è scritto One Direction Cioè aveva un poster Delle One Direction Cioè Harry Styles Che invade la sua camera E lo vuole uccidere Qua abbiamo Gregorio A sei anni Che ha Una protesta Per sua madre Scrive La mamma È una C***a C***a Poi è scritto Proprio con la I E adesso Sentirete un bellissimo Racconto Scritto da Eleonora Che ha sei anni E scrive È la storia Di Cenerela Cenerela Era una squatera Poi è diventata Una prinza Il principe È sposato Con la principessa Il cane di Masi È morto Che l'ha colpito Un fulmine C'era una volta Un porcello Che si chiamava Poppopello Era matto Fine del Grande Eleonora Che sa se adesso Eleonora è una Scrittrice Le mie traduzioni Delle versioni Di latino Al liceo Qua abbiamo Gloria Che è appena uscita Da una festa E scrive Sono appena tornata Dal compleanno Della nonna Elvira C'era un po' Di puzza Ma per il resto Tutto ok Notte a tutti Esce il nome Della puzza Che qui siamo curiosi Beh ragazzi I bambini Ci regalano Sempre tante emozioni Mi diverto sempre Tantissimo A fare sta rubrica E vedere cosa scrivo Di bambini Comunque Spero ovviamente Che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Ricordatevi Di lasciare like Perché a breve Uscirà la parte 2 Dei miei diari segreti Che scrivevo da piccola Preparatevi Perché ho molto Da farvi scoprire De carli da cimia Con solo un calzino E tutto Ci vediamo prossimamente Con un altro video Ciao